bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi tantissime novità sul futuro di fortnite perché dall'ultima patch molto è cambiato abbiamo visto già i primi teaser della season 3 abbiamo visto l'arrivo della nuova modalità carico ma oggi parleremo di altri dettagli molto interessanti per quello che riguarda la terza season di questo secondo capitolo ma vedremo anche un comunicato molto interessante di ninja e tanto altro riguardante il competitive di fortnite prima volevo però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sul mio video news di ogni giorno ma quindi andiamo subito prepotentemente a parlare del primo argomento di oggi ed è ovviamente il regalo di cui vi parlavo ieri abbiamo capito che il nuovo regalo per la premiere della modalità arrivata quella la parte royal non è ancora disponibile quindi non vi preoccupate non l'ha ancora ricevuto nessuno e alcune voci dicono che quasi certamente sarà disponibile nello shop però in maniera gratuita e per ottenerlo lo dovrete regalare a un vostro amico e automaticamente dovrete farvelo regalare quindi molto molto semplice come cosa ci sta è sempre un bel gesto fare un regalo e ovviamente riceverne uno è altrettanto bello quindi ragazzi non vi preoccupate che arriverà appena sapremo la data la saprete anche voi non abbiate nessuna paura ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi e si parla delle barche sì perché arriva in queste ultime ore una notizia da parte di fortnite status che dice disable motorbot a causa di un problema abbiamo temporaneamente disabilitato le barche ora io non so quale sia il problema che è stato riscontrato con le barche sapevamo del bug quello per farla letteralmente volare in aria insomma dovevate essere in squad o almeno in due uno guidava la barca e l'altro con il rampino di sky continuava a tirarlo sulla barca e la barca pigliava al volo so che poi però hanno fixato anche il tempo tra un tiro e l'altro del rampino quindi non so adesso quale sia il problema della barca se qualcuno per caso lo sapesse lo scriva qua sotto nei commenti così tutti lo possono leggere e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi vi ricordo una cosa che vi avevo già detto su instagram ma che non ne ho mai accennato qua sui video news il contest che si chiama hashtag fortnite spray contest ovviamente potete trovare tutte le informazioni sia sulla pagina news di fortnite quella ufficiale sia andando su twitter cercando appunto la stagging che cosa consiste questo contest beh consiste semplicemente nel creare un disegno che racchiuda la vostra idea delle due fazioni quindi delle ombre versus gli spettri e volevo menzionare approfittando di dirvi di questo contest una delle immagini più belle che sono arrivate in questo momento nel web insomma da parte dei disegnatori e questa è veramente meravigliosa riprende miascolo con la parte di miascolo buona e c'è quello dietro con le ombre per i fatti suoi un po messo in disparte davvero molto molto divertente colori bellissimi disegni devo dire maestria una maestria nel farlo se volete fare anche voi una prova un disegno mi raccomando non dimenticate di inviare e di leggere il regolamento magari potreste essere i creatori del nuovo spray in game di fortnite andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché questo invece è bello importante per chi non lo sapesse ieri pomeriggio hanno rilasciato per quanto riguarda le isole nella modalità creativa e vi faccio vedere un pochettino più in grande questa immagine dell'isola che è praticamente una specie di close combat che cosa vuol dire praticamente un combattimento ravvicinato perché questa immagine ha creato tanto scalpore nella community di fortnite in queste ultime ore perché se voi andate a guardare questa skin che ha proprio alle mie spalle sta imbracciando un fucile a pompa che non abbiamo mai visto né su salva al mondo né sul battle royale il che potrebbe essere l'ennesimo easter egg di fortnite per annunciare l'arrivo di una nuova arma anche perché se ci pensiamo una bella nuova arma è un bel po' che non ce l'abbiamo ragazzi ci starebbe tantissimo avere un po' di aria fresca in game un nuovo fucile a pompa se non fosse rotto come il ex combat sarebbe tanta tanta roba visto così sembra proprio un fucile a ricarica singola vedete che sta imbracciando proprio il caricatore e tanta tanta roba a me piace molto da vedere una linea molto molto pulita chissà se stanno semplicemente inserendo un easter egg e se arriverà ovviamente appena sapremo qualcosa lo saprete anche voi andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi sbada bam questa immagine l'avete vista più di una volta anche nei teaser che vi avevo fatto vedere con il download della patch 12.50 ma è praticamente confermato che il piccolo logo dell'ombrello infuocato sarà il sarà l'ombrello per la prima vittoria nella season 3 di questo capitolo 2 ed è veramente molto curioso questo ombrello perché come come vedete è somigliante a un ombrello che già abbiamo preso quello azzurro dovrebbe essere season 10 ma ovviamente la particolarità è l'effetto del fuoco che incendia l'ombrello la domanda è non è che questo fuoco preannuncia qualcosa che potrebbe succedere al termine di questa season e che ci porti alla season 3 potrebbe essere abbiamo già visto come ci sono varie teorie sul discorso che fattoria frenetica venga rasa al suolo dalle fiamme abbiamo visto anche qualcosa di simile proprio nell'evento di travis scott dove appunto tutta la mappa prendeva fuoco e particolar modo la parte di destra quindi staremo a vedere un bel ombrello sicuramente poi chi non vuole un bel glider gratis se lo può ottenere dopo la prima vittoria quindi tanta tanta roba anche per questo ombrello e andiamo avanti invece a parlare di cose importanti e ufficiali che arrivano dalla pagina twitter di fortnite competitive ovviamente si parla della world cup del 2020 che non ci sarà è già stata ufficialmente rilasciata la notizia che l'evento delle world cup di fortnite verrà posticipato al 2021 e non solo tutti gli eventi in competitive dal vivo non verranno fatti ma si farà ovviamente causa la situazione mondiale si farà tutto online quindi questo il post ufficiale dove annunciano appunto della world cup 2020 qua invece si parla come vi ho appena accennato di tutti gli altri eventi per il resto del 2020 è ovviamente un peccato si parla di fncs si parla di cash caps si parla delle cap del 2021 andranno tutte posticipate al 2021 e ovviamente fortnite continua a ringraziare l'utenza e i player che nonostante tutto restano continuano e non si lasciano abbattere appunto da questa situazione quindi tanta tanta roba speriamo che torni ovviamente tutto alla normalità nel minor tempo possibile escludendo fortnite ne approfitto per dirlo speriamolo speriamo in generale e andiamo avanti chiudendo con l'ultimo argomento di oggi ragazzi perché forse non ve lo ricordate ma stiamo per avere qualcosa di interessante per quanto riguarda l'agenzia nei file di gioco sono presenti due immagini molto interessanti che rappresentano l'agenzia in questo caso è conquistata dagli spettri ma abbiamo anche la controparte dell'agenzia conquistata dalle ombre questo potrebbe essere nuovamente un qualcosa relativo all'evento al fine evento di questa season intanto vi ricordo che la stagione termina il 4 giugno e secondo me fino alla patch 12.60 che è quella che dovrebbe arrivare tra 14 giorni quindi a metà maggio non sapremo bene in cosa consisterà l'evento sappiamo però che sarà qualcosa di mastodontico come lo è stato e anche più di quanto lo è stato l'evento di travis perché fortnite nonostante abbia posticipato rimane sempre ai massimi livelli per quanto riguarda la scenicità dei suoi eventi che ci mancano veramente tantissimo da vedere in game insomma ragazzi anche per oggi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato il video news qua c'era una roba che si deve un po capire ve la faccio vedere comunque è una specie di vespa che è presente ma non si è ancora capito che cavolo sia ma ne approfondiremo vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando non dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso i live su twitch ciao